Questo anno invece ho proposto il tema del denaro, raggiungendo anche durante tutto l'anno lo studio un po' approfondito del mercante di Venezia di William Shakespeare. Ehi, dici? Il denaro. I soldi. I soldi, i soldi, i soldi, i soldi, i soldi. Il denaro? Un' lecce! Intemi, i soldi! I soldi? Il denaro? Lo sparescono i soldi. Porco denaro, soldi. Con che soldi? Denaro. Poi soldi. Il denaro! Con che soldi? Soldi. Tutti questi soldi. Il denaro! Sporco denaro. I soldi. Col denaro! Milioni di dollari 10, 20, 30, 40, 50 Prego ma tu hai idea delle serate? Grazie a tutti!